Parliamo di K9 e Diego Costantino che formano la creatura The Dub Bros, un'unione fra le ridici del dub e le modernità mistiche del 2.0 che ritorna con Endgame e Pd5 Tracce di cui due dub version nato in collaborazione con una grande figura del dub e del reggae Dennis Bovell, musicista e discografico attivo dagli anni 70 e riconosciuto come uno dei massimi esponenti del reggae made in UK assieme alla band Matumbi. Il tutto naturalmente per Elastica Records, noi ci ascoltiamo Cry nella dub version The Dub Bros e Dennis Bovell. Grazie mille! Grazie mille! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.